Una sanità di prossimità vicina a tutti i cittadini con particolare attenzione a quelli fragili. E' questo il messaggio che la Regione e l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini vogliono lanciare attraverso la campagna di prevenzione del carcinoma orale che farà tappa sabato 23 e domenica 24 aprile nella piazza del comune di Fabriano e l'11 e 12 giugno a Dancona. Questa iniziativa segue un percorso che è già stato iniziato alcuni mesi fa che ha visto altre città e altri capoluoghi. Domani fa tappa a Fabriano e tende a lanciare un messaggio di prossimità della sanità nei riguardi dei cittadini ma riguarda non solo la prevenzione delle patologie cavo orale ma a me piacerebbe e quindi stiamo lavorando in questa direzione anche per la prevenzione delle patologie riguardanti l'oculistica. Questo è un evento importante per l'Assur Marche perché si vuole dare un'importanza al concetto della prevenzione. Io parlerò della prevenzione del carcinoma il cavo orale che è una patologia non molto conosciuta ma che fondamentalmente rappresenta una situazione assolutamente grave perché coinvolge 10 persone su 100.000 abitanti. Quello che abbiamo fatto come programma, un programma itinerante che ha toccato tutte le maggiori città dell'area vasta 2 Iessi, Fabriano, Senigallia, Loreto vuole dare un messaggio molto importante alla popolazione in questo caso sono i medici che scendono in piazza per poter incontrare la popolazione cioè dare un messaggio di vicinanza in questo contesto storico particolare in cui si cerca di dare una visita specialistica gratuita proprio per cercare di venire incontro appunto alla popolazione.